bentornati amici di obiettivo news torniamo qua nel nostro studio e proseguiamo il nostro viaggio nella bellezza infatti siamo qui oggi con miss giaveno ariana roselli neo eletta appena eletta lo scorso fine lo scorso fine settimana anche tu fai parte stai prendendo parte le selezioni di miss italia per il piemonte e la valle d'aosta intanto benvenuta grazie grazie mille non è di essere qui grazie non è la tua prima prima esperienza infatti ai diciamo per la tua giovane età una carriera di tutto rispetto se vuoi farci conoscere quali sono stati i tuoi allora esatto non è la mia prima esperienza ho iniziato a 18 anni per gioco iniziando a fare i concorsi di bellezza non tanto per i concorsi di bellezza quanto per farmi conoscere per il talento che che mi sento dentro ovvero quello della recitazione infatti in seguito poi avevo fatto anche una ragazza per il cinema dove vinse il titolo regionale di una ragazza per il cinema a piemonte riguri a valdaosta 2018 a seguito di quello dei finali nazionali dove conopi fioretta mari e da lì poi iniziò un bellissimo percorso di studio perché venne presa l'actors planet di roma che è una bellissima scuola di cinema di rossella izzo dove mi hanno preparata diciamo in tutto con teatro cinema doppiaggio e ho avuto il mio primo debutto al teatro tor di nona quindi una grandissima emozione e oltretutto i nostri insegnanti erano insomma insegnanti noti come federico moccia stefano reali giulio manfredonia e mi ha portato bene perché subito dopo la scuola mi hanno chiamata per fare la cameriera sexy di antonio albanese nel film accetto c'è senza dubbiamente che uscì al cinema anche lì vedermi sul grande schermo come prima volta è un'emozione enorme per me e anche per i miei genitori che mi seguono tantissimo e poi da lì ho fatto ovviamente anche altre cose ho condotto anche diversi programmi tv locali mi sono divertita un sacco anche proprio in quelle in diretta sono stati diciamo programmi abbastanza spiritosi quindi niente di troppo impostato e serio e anche in quelli calcistici come forse io vedo lo channel anche lì è stato molto divertente però ovviamente il giornalismo sportivo diciamo che non lo sento troppo mio però comunque è stata è stata esperienza ed è curriculum poi anche con le sfilate di moda perché anche la moda è una delle mie passioni lo faccio veramente con grande piacere abbiamo sfilato per alviero martini per romeo gigli gai mattiolo all'evento oas che c'è stato l'ingotto fiere anche quello diciamo che ha impreziosito il mio curriculum e poi adesso è nata a messa italia 2022 e ho detto sì partecipiamo riproviamoci perché non è la tua prima esperienza messa italia partecipai già diversi anni fa proprio appena diciottenne ma mi ritirai praticamente subito per vari motivi personali e non continuare le selezioni per cui avevo anche questo conto in sospeso e ho detto adesso ci riproviamo ritentiamo e devo dire che sta andando bene quindi un mondo dello spettacolo a 360 gradi dalla moda cinema quindi la tua aspirazione sarebbe quella di riuscire a sfondare nel modo dello spettacolo sì maggiore maggiore aspirazione cinema recitare proprio nel cinema fare uno di quei film interessanti belli forti il massimo sarebbe come protagonista però quello diciamo che è il massimo a cui aspiro poi certo e io appunto penso e spero che miss italia mi aiuti in questo spero più che altro ecco di avere anche un po di fortuna perché ci va anche quello ho detto lo studio l'ho fatto quindi mi sento abbastanza preparata non si smette mai di imparare e sicuramente mi dovrò migliorare in tantissime cose però appunto ci va anche quel pizzico di fortuna di trovarti nel momento giusto con le persone giuste che ti possano dare fare da trampolino di lancio in questo mondo che è tutt'altro che facile appunto e infatti confido in miss italia che possa anche darmi una spinta in questo per adesso sta andando bene ho fatto quattro selezioni ho vinto sempre le fanno la fascia l'ho sempre presa per fortuna due miss rocchetta bellezza una terza e adesso l'ultima miss giaveno tra l'altro inaspettatamente perché era una fascia che non pensavo ci fosse perché adesso le finali regionali viene eletta soltanto una vincitrice una corona e non ci sono più le altre classificate e invece colpo di sorpresa una sorpresa è stata miss giaveno quando hanno fatto il mio nome è super felice quindi una grandissima soddisfazione adesso ci saranno comunque altri finali da qua a metà settembre esatto con la speranza di riuscire finalmente ad ottenere questo primo posto incrociamo le dita adesso il 21 ci sarà un'altra finale anche il 27 io come al solito cerco di dare il massimo poi certo la giuria è tanta ognuno la bellezza non è bello ciò che è bello è bello ciò che piace quindi se piace più una bionda piuttosto che una mora le bionde favorite o? ma in realtà fino adesso lo stereotipo della bionda in realtà fino adesso quelle coronate sono state more e allora dai quindi speriamo speriamo che continui sì sì speriamo decisamente e Miss Italia tutti si chiedono che ambiente si c'è dietro a questo grandissimo evento che ormai è giunto alla sua 83esima edizione quindi ha fatto la storia dell'Italia d'Italia diciamo allora come ambiente io devo dire che fino adesso non ho riscontrato nessun problema anzi tra noi ragazze cerchiamo sempre di aiutarci di consigliarci una persona impressa una cosa all'altra se non ce l'ha chi si sente poco bene ovviamente non la molliamo lì da sola a star male ma cerchiamo c'è uno spirito di collaborazione comunque che in questo ambiente non è del tutto scontato poi ad essere sincera perché io non so esattamente cosa si c'è lì dietro la testa di ogni ragazza però per adesso quello che viene fuori è gentilezza generosità poi ovviamente magari siamo tutti lì per la stessa cosa quindi fondamentalmente ci sarà magari qualcuno che dice cavolo volevo esserci io al suo posto quindi ci sta ci sta è giusto che sia così però ecco superficialmente siamo siamo tutte unite siamo un bel gruppo devo dire e poi comunque c'è Mirella che ci fa essere così Mirella ci rende squadra non fa parzialità le ci fa sentire tutte belle tutte tutte brave tutte uguali quindi Mirella è una persona fantastica è una gran donna e infatti io ormai sto con lei da da anni so come ragiona ed è lei che ci imposta ad essere così anche altruiste Certo perché poi il gioco la squadra ci fa per vivere anche un'atmosfera tranquilla e rilassata senza essere per forza sotto pressione Esatto perché già comunque quando sei in passerella c'è già ansia, eccitazione comunque tu sai che una volta che cavalchi con la passerella da lì starai giudicata da testa a piedi ogni tuo passo viene osservato e valutato per cui già sei tesa se anche dietro c'è si crea un'area di tensione diventa veramente stressante difficile non passa più e invece così è tutto molto più leggero molto più tranquillo e poi ho detto proprio tra di noi ci incoraggiamo cioè questa è la cosa i tuoi hobby le tue passioni oltre alla recitazione allora io amo follemente gli animali sembra una cosa banale letta da tutti però io ho proprio una gran passione per gli animali soprattutto quella per i lupi infatti ho una lupa cecoslovacca poi vabbè ho anche un hamstaff, uno shih tzu, un gatto quando infatti parto per le vacanze sembra l'arca di Noè quindi io ecco vado spesso anche nei canini vado a vederli, magari gli porto delle coperte che non si usano più del cibo si cerca di fare nel piccolo quello che si può fare perché ovviamente magari potessi salvare tutti gli animali del mondo sarei la persona più felice però purtroppo non ho questa possibilità sarebbe quasi impossibile quello lì sarebbe anche un mio desiderio ma so che è come dire la pace nel mondo non si può, non sarà mai così però nel mio piccolo cerco di fare il mio e adoro fare delle passeggiate in montagna le escursioni proprio mi appassiona anche la natura tutto ciò che riguarda la natura e animali ne rimango incantata va bene, grazie di essere stata nostra ospite in bocca al lupo e di ben lupo ecco punto per rimanere in tema speriamo che finalmente tu possa riuscire ad ottenere questa corona e a incrociare la tua avventura grazie mille grazie